Il clima ci ha aiutato, abbiamo avuto delle belle domeniche in luglio, adesso ancora il clima dopo una settimana un po' diciamo così mezzo e mezzo ancora ci aiuta. Così Rolando Galli, presidente del consorzio turistico APN a Betone e Montagna Pistoiese, fotografa l'andamento della stagione turistica estiva. Un luglio dunque tutto sommato positivo, anche se lontano dal vero e proprio boom di presenze vissuto lo scorso anno, quando la colonnina di Mercurio in pianura toccò temperature record, spingendo tantissimi a cercare il rifugio dal caldo sulla montagna Pistoiese. Quest'anno siamo leggermente superiori all'anno precedente, quindi diciamo che nella media possiamo essere soddisfatti. Un turismo profondamente modificato rispetto al passato, quando la montagna era scelta come meta per lunghi soggiorni, che oggi ha invece vissuto in maniera più rapida e mirata. La villeggiatura purtroppo è passata, ma non soltanto da noi direi oramai in tutto il mondo. Il turismo è un turismo motivazionale che viene sulla base di quelle che sono le attività che si possono svolgere, che siano appunto attività sportive come dicevo prima, attività enogastronomiche. O semplicemente per riposarsi qualche giorno, però chiaramente la durata dei soggiorni si è assolutamente accorciata rispetto a prima. Abbiamo avuto molte manifestazioni nel mese di luglio, quelle tradizionali come la Pistoia Betone di corsa podistica e alla Prata Betone in bicicletta. Si è aggiunto il campionato italiano di Downhill che ha avuto un grandissimo successo e quindi adesso ci stiamo preparando per un agosto di fuoco, sperando che appunto il clima sia ancora buono come è stato in luglio. Grazie.